Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Riccardo, sono uno studente di giurisprudenza al secondo anno. Ho scelto l'Insuberia per il percorso economico d'impresa principalmente. È un percorso che si adatta al corso di studi in giurisprudenza e mi permette in sei anni di laurearmi sia in giurisprudenza che in economia. Mi hanno chiesto un po' quali sono i punti di forza del nostro Ateneo. Io credo che il primo punto di forza sia il fatto di essere piccolo, di avere un numero di studenti relativamente ristretto. Questo permette durante le lezioni di dare la parola a tutti. Tutti possono fare domande, possono esprimere un parere, un'opinione, una considerazione su quanto viene spiegata la lezione e di conseguenza si crea un rapporto tra i docenti e gli studenti di interazione, di confronto e di discussione che è il reale motore dell'università.